Finalmente Piazza Marcolini verrà riqualificata dopo tanti anni di degrado e di abbandono. Il comune sta lavorando al progetto definitivo ma ai residenti nuva proprio giù la rimozione dei parcheggi. Bene il restyling ma senza gli stalli per le auto tante famiglie e in particolare i disabili si troveranno in difficoltà. Ieri intanto sono state depositate in municipio 41 firme per protestare contro la scelta dell'amministrazione e la raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane. Siamo contenti che finalmente Piazza Marcolini venga presa in considerazione e sia riqualificata. Siamo molto preoccupati del fatto che vengano tolti i parcheggi perché questo crea un disagio non indifferente a noi residenti in quanto tanti sono pendolari, ci sono tanti anziani, ci sono anche famiglie con bambini che non saprebbero dove parcheggiare la loro auto. Fanno non è una città che offre servizi che possano sopperire alla mancanza di parcheggi quindi ci troveremo in grande difficoltà. Dall'amministrazione non abbiamo saputo nulla circa i piani nei confronti del parcheggio se verranno restituiti oppure no questi posti auto che vengono tolti e questo ci destra tanta preoccupazione. Quindi al momento mancano delle alternative e si vorrebbero a creare notevoli disagi? Sì esattamente anche perché in questo parcheggio ci sono diversi posti riservati ai disabili e ci sono diverse persone con disabilità che sono molto preoccupate perché non saprebbero proprio come raggiungere le abitazioni. Speriamo che almeno loro vengano tenuti in considerazione e domani è stata presentata un'interpellanza da parte della Lega di cui si discuterà domani in consiglio comunale e speriamo di acquisire delle notizie. Si stanno realizzando tante piazze da vive raggiunto la portavoce ma sono anche residenti attraverso la cura e la manutenzione delle case a mantenere il centro storico bello e vivo. Il problema dei parcheggi ha detto Francesca sta spingendo alcuni di noi a pensare di trasferirsi e temiamo che possa disincentivare gli acquisti e le conseguenti ristrutturazioni delle unità immobiliari del centro città. Quando il signor Seri si è presentato come candidato sindaco ha scelto uno slogan di grande efficacia ci metto la faccia dopo più di un anno aspettiamo che ci metta anche le orecchie perché fare il sindaco a nostro parere è anche ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini. Ci sono stati decenni passati in cui tra chi governava e i cittadini c'erano delle cinghie di trasmissione, si chiamavano partiti, sezioni dei partiti, si chiamavano sindacati. Oggi i partiti praticamente non esistono più, hanno tutte le sedi chiuse, i sindacati si occupano di pensioni e fisco per cui il rapporto tra chi ha il potere e i cittadini non esiste e quindi o dentro le municipalità c'è qualcuno che oltre la faccia c'è anche le orecchie e la volontà di incontrare i cittadini, di sentire quali sono i loro bisogni e le necessità oppure la democrazia arruginisce. In Grecia quasi 3.000 anni fa la democrazia è nata nelle piazze, non nel chiuso dei palazzi. Questa è una piazza, qui ci sono dei cittadini con delle necessità, dei bisogni, sarebbe bene che qualcuno venisse ad ascoltare.